Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Daniel Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio di The Sims 4 vita in città Allora, dato che lo scorso episodio l'ho pubblicato lunedì e sto registrando sempre oggi che è lunedì Perché sto registrando più o meno subito dopo aver registrato lo scorso episodio Ancora non ci sono gli aggiornamenti, più che gli aggiornamenti scusate, il game pack sui vampiri Quindi ancora non vedrete nulla sui vampiri e c'è nulla di tutto ciò che verrà aggiunto con questo game pack Quindi continuiamo le nostre storie Ci eravamo lasciati con Camille che si era fuggita diciamo immediatamente con Pranav Gupta E si erano ritrasferiti in questo appartamento e invece Penny e Akira con Michelle sono in questo appartamento Ho cambiato un po' i look vari dei nostri Sim e ora ve li faccio appunto vedere Perché vabbè, a parte Michelle che è rimasta sempre uguale La nostra Penny Pizzaz gli ho cambiato un po' il trucco ed gli ho fatto crescere un po' i capelli che sono diventati super lunghi E vi faccio vedere anche i vari look che più o meno sono rimasti simili più o meno a quelli dell'altra volta Però li ho un po' cambiati Qui per esempio ho lasciato questa pettinatura Li ho un po' modificati diciamo Poi ci sono invece altre sezioni tipo queste tre sezioni che li ho lasciati abbastanza uguali E questo l'abito da festa l'ho cambiato mentre l'abito diciamo il costume da bagno è sempre quello Ho modificato un pochino il nostro Akiri Akibo Li ho fatto crescere la barba Li ho aggiustato appunto un po' i capelli Li ho cambiati E tra l'altro vedete invece questi capelli Che sono super cinesi secondo me Dato che lui è orientale Secondo me gli stanno benissimo Ho messo un ultimo materiale personalizzato che ho appunto scaricato Questi sono i suoi due look che ho cambiato finalmente Perché aveva un solo look Questo è l'abito ovviamente elegante e sportivo da notte Questi li avevo già modificati L'abito da festa molto molto in stile The Sims 4 vita in città Vi faccio vedere anche soprattutto i look di Camille e Pranav Dove Camille finalmente li ho cambiato un po' gli abiti E appunto il look le sono cresciuti appunto i capelli Perché dopo un po' di tempo ci sta E questi sono i look degli abiti diciamo da giorno Eccola qui Qui la vedete con una coda Le sono cresciuti appunto i capelli Avevamo bisogno di cambiarle un po' il look Dato che ormai ci giochiamo da 19 Questo è il ventesimo episodio in realtà E questi sono i look per la nostra Camille Ovviamente alcune cose le ho lasciate più o meno uguale Questo l'ho cambiato per esempio L'abito da festa anche le ho cambiato Mettendole questi capelli E poi anche questo abito Camille si è un po' un po' tantino ingrassata Quindi cercheremo anche di rimetterla in farm Anche Pranav l'ho modificato un po' Almeno per quanto riguarda gli abiti Questo per esempio è tutto scaricato Mi piace un sacco come felpa Anche questo è super scaricato Sia la camicia che il pantaloncino E lo trovo abbastanza carino e simpatico Questo è l'abito da festa con un cappellino Che l'ho aggiunto E volevo anche farvi notare questa cosa Che Pranav è già adulto Quindi Diciamo Dobbiamo anche darci da fare per creare una famiglia A me piace tra l'altro tantissimo l'immagine Appunto dove c'è gestisci la famiglia Quest'immagine la trovo carinissima E andrei proprio da Penny Pizzazz Dai nostri anzi Penny Pizzazz E la vecchia casa del sale Ok Perché appunto Lo scorso episodio Abbiamo giocato sempre con Camille Rouge In questo episodio Prima giocheremo un po' con i Pizzazz E poi Diciamo Verso gli ultimi minuti Vi porterò invece nella casa Di Camille Rouge e Pranav Per farvi vedere Con quei pochi soldi Diciamo che avevo Perché erano sui più o meno 22.000 simulans Come ho aggiustato Appunto la camera Lei Tra l'altro Non è stata Ovviamente Mai una gioia Non è stata promossa Perché appunto Non abbiamo giocato con loro Quindi Purtroppo Non è stata promossa ragazzi Però ha un giorno di pausa Magari ci dedicheremo Anche lui Non è stato promosso Però direi Dato che ci siamo Di fargli fare qui La programmazione Esercitati nella programmazione Così saliamo a livello 3 La nostra La nostra Michelle È qui Che gioca È super contenta E quindi direi Che con la nostra Penny Pizzazz Possiamo ancora Lei del cibo dell'inventario Raccontano No Vorrei Dai il cibo Fai il bagno No Oddio ma non Ma Tipo Impara a conoscere Controllo Prendi a letto No Altre scelte Amichevole Schede didattiche Insegna gli animali Inizieremo ad insegnare Gli animali Alla nostra Michelle E vediamo così Questa interazione Super wow Ci prendiamo cura Della nostra bimba Ah eccola qui Tra l'altro C'è la nostra Camille In casa Ovviamente ragazzi La Le giornate Avanzano Sia per Entrambe le famiglie Non ho messo Aumenta Diciamo La vita solo Nella famiglia Dove giochiamo Perché voglio far aumentare Tutto insieme Progredire Diciamo Nel modo più Più normale Perché sennò Devo stare a contare I giorni Che gioco con una famiglia I giorni che gioco con un'altra Invece è giusto Che crescano Tutti Insieme Io voglio vedere le schede Lui sta programmando Perfetto Tra l'altro Akiri ha da un paio di episodi Mi è quasi simpatico Quindi Ho abbandonato l'idea Di Farlo tradire Eccetera eccetera Vorrei una famiglia Un po' più felice Certo Questo appartamento È un po' grande Per loro Ma va bene Cioè nel senso Per ora ci può stare Magari arriverà un secondo figlio Allora Vediamo la prima scheda Che cos'è? È una medusa Vediamo se Lei lo impara Adoro Gli cambia anche le carte Che cos'è questo? Una volpe Super adoro Tra l'altro questa cameretta A me piace un sacco Devo essere sincero Magari velocizziamo Così Gli impariamo gli animali Vediamo un attimo Adoro Ha sempre la medusa Più o meno Sempre gli stai O forse ora La sta interrogando Tipo Su cosa Ha imparato Vorrei insegnarli Un bel po' di cose A questa bimba Tra l'altro Deve mangiare Vediamo se Abbiamo del cibo Dai del cibo Dell'inventario Torta la frutta Da gourmet Possiamo provare A dargliela Magari mangia Oddio il pinguino E lei lo ha detto Quindi Ci può stare Parla con un animale Di peluche Gioca con le bambole Cosa sta facendo? Ascolta Camille Non ho capito Che cosa vorrebbe fare Camille Ok amica Raggiunge il livello 3 Ok Allora Lui può modificare i videogiochi Però prima Dedichiamoci a lei Oddio Darly sta Oddio ma è caduta Di faccia a terra Tipo Non so cosa sta facendo Ragazzi Oddio Dove sta andando? Aspetta aspetta Oddio sta andando nel letto? No cosa? Prendi una porzione Oddio amore Quanto è bella Ah no Se la sta mangiando Perfetto Più o meno Oddio Non è che ha soddisfatto tanto Allora facciamo così Guarda La portiamo qui Metti Michelle qui Basta programmare Raggiungimento livello 2 Di movimento Bravissima Sì ma amica Dove stai andando? Tipo Cioè prendi una porzione De che? Stai proprio ferma Infatti prendere Dado lui Tra l'altro lui Vuole parlare con Michelle Loro mi sa che comunque sono in ottimi rapporti Padre figlia Sì abbastanza Dai Eccola qui Se la porta giù Devo dire che questi bebè mi piacciono tantissimo Mi piacciono anche molto di più Rispetto al Al Diciamo ai vecchi Alle vecchie Come si dice Alle vecchie dizioni Dai il cibo Cereali Dai Così se lo magna Voilà Visto che ti trovi Lei ovviamente Condividi le insicurezze Parla un po' Vai Sfogati Ma che fai il bacio a mano? Cioè Spettegola Lamentati No Racconto una storia incredibile Magari diventano amici Discuti del cambio dei quartiere Spettegola sui vicini Diventano amici Dopo Essere Ad aver vissuto Praticamente insieme Ok Io direi che con lei possiamo Cura del bebè No Che cambia abito No Volevo insegnargli qualcosa In realtà Prendi in braccio Vai Ah cavolo Doveva andare a fare pipì Ok Vediamo un attimo Loda Perché comunque è stata brava Ha mangiato bene Ragazzi Ragazzi Scusate Dio Lui ci ha provato con lei Non ci credo Cioè Coniuge flertante Eh Vedrai Cioè Non si fa Ma le dici l'amicizia Ma non è colpa sua Ma perché è incazzata Lancia una bevanda Insulta il viso Insulta No Ma avevo appena detto che Mi stava Simpatico Uffi Perché lei è Ah perché è stanca E allora Facciamo così Oddio Ma che cavolo Sassu Coniuge flertante Eh Senti Metti Michelle a dormire Perché non credo Abbia Tantissima voglia Di Eh però Cioè tipo Arrivederci Tipo Senti Camille Non è il caso Che rimani qua Camille è molto Flertante Tra l'altro E lui Voglio vedere Un po' Le amicizie A questo punto No Non c'ha Flertante Non è flertante Con Camille Dai Però loro Si stanno litigando Ragazzi Fit di gelosia Eh vedrai Cavolo ragazzi C'è stato un Piccolo problemino Eh Tra di loro Lei non se ne va Tra l'altro Perfido Divorzia Cioè vedete Malizia Senti amica Che ne dici Di andartene A casa tua Oh signore No Ma poi proprio Con la Con l'amica C'hai capito Cioè Ma Problemi Proprio Allora Lui ha Ok Verrà anche promosso Tra l'altro E quindi direi Che possiamo Un attimo Chattare con qualcuno Così da Aumentare Socializza Chattakon Da aumentare Appunto Genji Shimizu No Aumentiamo Con Prana Gupta Va Ok Lei sta andando In bagno E mi dispiace Tanto Complimento Sincero Peccato Mi dispiace Impara a conoscere Però è super Flirtà Cioè Super Incazzata Ma poi Con il coniuge Flirtante Con la migliore Amica Cioè Non si fa Non si fa Eh Penny è romantica Ha scoperto Che questa è romantica Sfogge i muscoli Racconta Una storia Incredibile E A questo punto Maggiordomo Assegna Un incarico No Suona il violino Gestione Responsabilità Smetti Smetti Visitatori Niente Non c'è nulla da fare Direi che la nostra Penny Pizzaz Può andare A dormire E' super Furante Ragazzi Coniuge Flirtante Mentre flirtava Con un altro Sim Eh lo so Aumenterei la velocità Così che Loro fanno un po' di amicizia A lui Con Pranav Gupta E io direi Di andare Per altri Diciamo Dieci minuti Del nostro gioco Salva e vedo Gestisce gli scenari A casa di Camille e Pranav Così da iniziare Finalmente La nostra vita Insieme Tra Camille E Pranav Tra l'altro L'appartamento L'ho un po' Ristrutturato Un po' Diciamo Buttato giù Tutte le pareti E l'ho praticamente Rifatto Sono rimasto infatti Con quasi 2000 Simoleon Più o meno A residenza Ora vi faccio vedere Perché mi piace Un sacco Questo appartamento Finalmente L'ho rifatto Completamente diverso Da come era All'inizio Quando abbiamo iniziato La nostra Il nostro gameplay E vi faccio vedere Subito Allora Qui Verrà appunto Lo studio Di Camille Social Network Ma anche poi Lo studio Di Pranav Quindi Si entra C'è questa parete Dove poi ci sarà Una porta Che porterà A una camera da letto Penso dei nostri bambini Poi ci abbiamo La camera da letto Che mi piace Da morire Come mi è venuta Cioè super 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 Adoro Anche se Magari ci vorrebbe Tipo un quadro Qui E delle tende Quindi la devo Comunque migliorare Da questa parte Invece Vi metto I muri alti Per farvi vedere Qui abbiamo La nostra cucina Un po' stile industriale Che è lo stile Che mi sta piacendo In questo periodo Vedete Un tavolo alto Con quattro sgabelli Qui abbiamo La zona Un po' più Soggiorno Con appunto La libreria Un bel divano Con la televisione Eccetera eccetera Qui sempre serviranno Dei quadri Comunque delle decorazioni Purtroppo O meglio Non ho voluto Arredare Diciamo Il balcone Perché sinceramente Con tutti i soldi Che ci servono Per arredare Casa Non mi sembrava il caso Di arredare anche il balcone E questo è il bagno Invece sui toni dell'azzurro Ho usato queste mattonelle Che non uso quasi mai Ma che mi piacciono Da morire Quindi Eccoci qua Allora La nostra Camille Magari socializza con Senti Io comunque Socializzerei con Akiri Akibo Perché comunque Mi piacerebbe Che diventassero amici Lui Invece Dobbiamo fargli Iniziare Una carriera E volevo Come vi avevo detto Iniziare la carriera Vediamo se lo possiamo fare Tramite Computer Cerca un lavoro Volevo fargli iniziare La carriera di politico Perché è l'unica Delle tre carriere Diciamo Aggiunte con The Sims 4 Vita in città Che non abbiamo Non abbiamo provato E quindi Dato che abbiamo Con Camille Abbiamo la carriera Appunto Dei social media Con Penny La carriera Del critico Quindi con Invece Il nostro Pranav Possiamo Utilizzare Possiamo fare La carriera Da politico E vedere un po' Che cosa Ci riserva Io un po' L'ho utilizzata Forse in una mia storia Tra virgolette Privata Però Assegnazione lavorativa Scegli una causa Da sostenere Ok Quindi Scegli una Causa da sostenere Clicca sul tuo sim Scegli carriera politica Per scegli una causa Da sostenere Allora Vediamo un po' Ok Carriera politica Scegli una causa Fondazione contro il crimine Nessun sim Abbandonato Parla per gli alberi Simoleon per tutti Uniti per il mondo Bene Io direi Proprio Via Fondazione contro il crimine Ragazzi Ci sta È una lotta Che mi piace Assolutamente Ok Abbiamo scelto anche Una causa da sostenere Non so perché abbiamo avuto 57 Credo per questo motivo E dobbiamo andare A lavoro Fiduciosi Andremo a lavoro Fra due giorni Quindi di lunedì Credo Ora non so Quando lavorerò da casa E quando invece no Però Proveremo A lavorare A sperimentare Diciamo Anche questa Carriera Allora Io direi Che lei Potrebbe Tornare a casa Decisamente E potremmo fare Il nostro primo Fichi Fichi Quindi Per ora Facciamo Fichi 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 Poi Proveremo anche Ad avere Un bambino Che spero A questo punto Mi nasca Maschietto Così che magari Possa Ma lei che pancia ha Ragazzi È ingrassata Tantissimo Ok Andate a fare Il vostro Fichi Fichi Lei è tornata Tra l'altro Molto giocosa Guardate Che faccia Adoro Nella nostra camera Da letto Super 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 Moderna Mi piace Un sacco Tra l'altro Tutti col Pijama rosso Ci sta Lei deve Ottenere Dei follower Ragazzi Assolutamente Come amicizie Akira Sta Piano piano Salendo Per fortuna Deve andare Anche in bagno In realtà Lei Ah stavo dicendo Ma il bagno L'ho fatto Sì Anzi E mi piace Anche tanto Quindi Voglio sapere Assolutamente Cosa Ne pensate Di questo Flirt Tra Akira E Penny Scusate Tra Akira E Camille Che scusate Abbiamo fatto Tanto Per dire No vabbè Dai Non facciamola tradire E poi quello Mi va a flirtare Con la migliore amica Della moglie Tra l'altro In Diciamo Davanti a lei Ma che problemi hanno Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questa casetta Della Anche della carriera Appunto Di Pranav Se vi piace L'idea Della politica E se voi avete Quale di queste tre carriere Avete provato E quindi Quale vi piace In realtà Allora Qui tra l'altro Non ci sono Altre amicizie Purtroppo Io quando dovevo Cambiare I look C'è stato L'evento Dei vicini Di casa Quindi Purtroppo Ce lo perdiamo Anche se siamo Arrivati qui E quindi Io direi Che con Sono le sei Del mattino Innanzitutto Carriera politica Controlla i progressi Della causa Perché Farei Socializza Chatta con Così Iniziamo a far diventare amici I nostri Appunto amici Mentre Con la nostra Camille Abiti Cambia abito E ti metti Il secondo Ti metti Così Andiamo Invita a stare insieme Chiedi di chiacchierare Andiamo a visitare I nostri Bex Vicini Perché loro Sono stati i primi I nostri vicini Di casa Che invece Appunto Andiamo a ritrovare Come i nostri vicini Di casa Quindi diventeré Eccola infatti Bentornata In casa Praticamente Rallegra Spettegola Adula Non so se Nel prossimo episodio Magari Fare una festa In questa casa Appunto Per Una festa Di conoscenza Diciamo Con i nuovi Nuovi O ritrovati Vicini Praticamente Complimento Sincero E Barzelletta Toc Toc Entusiasmati Per il leggendario Mismo Vi ricordo Che lei Aveva avuto Un flirt Con Suo marito Praticamente Che ora vi faccio vedere Edward Che però poi Sono rimasti Solo buoni amici E lui è anche In possesso Delle chiavi di casa Ma che credo Di richiedere Indietro Chiedi della carriera E tra l'altro Loro due hanno avuto Un bambino Quindi Tra non molto Vedremo un nuovo Toddler Tra l'altro Chiedi di chiacchierare Quindi non possiamo Vedere casa loro Ma credo Che ve l'abbia Già fatta vedere In passato Abbraccia Racconto una storia Convolgente Però in realtà Lui è diventato amico Con la Chiri In tutto questo Ha preso che Ellie è casalinga Io mi presenterei Presentazione Amichevole Aspetta Allora Carriera politica Dal Cambio abito Metterei Il Primo abito Verrei qui Manifesta Zacchete E mi presenterei Presentazione Amichevole Così che almeno Iniziamo a conoscere Anche i vicini Di casa Loro sono molto amiche Va benissimo Stanno diventando Sempre più amiche Condividi un segreto E ora Lì dirà Sai Il marito Della mia migliore amica Ci ha provato con me Ci ha flertato E quindi Tipo Penny Si è un po' Incazzata Però vabbè Io comunque Ho rifiutato Non mi interessa Lui è qui Così Rallegra Che pensa Un po' Alle Come si dice Alle discussioni Tra donne E battuta Di abbordaggio Ma smettila Tutti che ci provano Con tutti Promuovi la causa Ecco Lui inizia già A promuovere La causa Di lavoro Praticamente Super Super adoro Super politico Lui Già me lo vedo Anche se Lui Come vi dicevo È già adulto Quindi Ok Andiamo Veloci Quindi Voglio sapere Cosa ne pensate Di questi amici Di questi vicini Ritrovati E di tutte le altre cose Che vi ho chiesto Anche lì è vegetariana Ah Adoro Non me lo ricordavo Ellie Ha ascoltato Gli appassionanti Bluocami di Pranav Sulla causa E ne ha tratto ispirazione Per agire Congratulazioni Per aver promosso Con successo La causa Addirittura Accidenti È andata bene Spettegola Lui è amichevole Quindi le Come si dice Le Le relazioni Salgono più velocemente In effetti Lui sta andando Da Ellie Tra l'altro Lei si chiama Ellie Owards Owards Spettegola sui vicini Racconto Racconto una barzelletta Sulle scimmie Visto che ci troviamo Chiedi della carriera Ma tanto sappiamo Gioca e casalinga Discuti della teoria Del colore Discuti degli interessi Spettegola sui vicini Cos'è Stringi Camille Che tenero E Chiacchiera dei valori Della proprietà Beh ci sta Una bella amicizia Appena arrivati In questa casa È una madre casalinga Ed è creativa Il mercato delle pulci In città Clicca su una delle insegne Dinamiche In giro per la città Per saperne di più Adoro Rallegra Forse ci andremo Non lo so Nel prossimo episodio I donno Abbraccia Quindi Cioè scusate Siamo già diventati amici? Sì Abbiamo già amicizia Con lui Ah questo è L'altro nostro vicino Ragazzi Che conosce Lei si è andata a coricare In tutto questo Ah no È andata semplicemente A fare un pisolino Ok Si abbracciano Quindi Niente Secondo me puoi dirle Anche arrivederci Se c'è Che ti dico Arrivederci E andrei a conoscere Francesco Rossi Perché non può? Scusa? Vai qui? Ah no, se ne è andato Va bene ragazzi, allora direi che questo episodio, anche questo, è durato un po' di più rispetto al solito Perché l'ho fatto durare più dei 20 minuti, dureranno quasi 25 minuti a episodio Eccolo il marito di Ellie, e niente, lui si sta andando a coricare, Camille si sta riposando invece sul divano Niente, vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu, vi aspetto al prossimo episodio E come al solito ragazzi, grazie per le visualizzazioni e se vi è piaciuto mettete un mi piace in questo video Vi mando un bacio, ciao a tutti